La controversa autrice di Asbin Hotel e Elluva Boss avrà creato una serie di successo trasmessa su Amazon, Asbin Hotel, una grande mutli nazionale che supporta Israele, ma comunque parliamo di alcune teorie e misteri sull'Ona, la segugia infernale più conosciuta di Elluva Boss. Secondo l'episodio della seconda stagione Seeing Stars, ironicamente anche il secondo episodio, si scopre che è stata adottata e si vede che stava insieme a un segugio infernale con un cappello. Secondo delle teorie si dice che l'Ona sia stata anche vittima di violenze fisiche e forse non da parte della sua famiglia come detto che in un episodio menziona la malattia di una malattia che non sono sicuro di menzionare che inizia con la S. Si dice che i genitori di l'Ona siano morti oppure stati talmente abusivi da sequestrare la figlia da adolescente, ma non si sa molto del suo passato, ma un episodio sul passato potrebbe arrivare. Ma un indizio possibile su questo possibile episodio futuro ipotetico è che in un tisa si vede uno vestito da l'Ona ma mancano i guanti senza dita. E voi cosa ne pensate della segugia infernale di nome l'Ona, pensate che le sue origini verranno rivelate? Sarà perfetta in un picchiaduro? Scrivetemelo nei commenti!